Sono due i decessi avvenuti la scorsa settimana nelle spiagge di Fano e Marotta. Il primo mercoledì pomeriggio intorno alle 17, quando a Torrette ha perso la vita un turista di 83 anni a 50 metri dalla riva. A dare l'allarme è stata la moglie che lo ha visto riverso in acqua, nonostante il tempestivo intervento dei bagnini che hanno provveduto anche alle manovre di rianimazione, purtroppo l'uomo è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Il giorno successivo verso le 20 un'altra tragedia a Marotta nel comune di Mondolfo. Paola Gervasi, 67 anni del posto, è stata accolta da un malore dopo una notata. La donna si è accasciata a terra sulla battigia e anche qui è subito scattata la macchina dei soccorsi ma per l'insegnante in pensione non c'è stato nulla da fare. In entrambi gli episodi sventolava la bandiera rossa che viene issata anche se le condizioni meteomarine sono buone ma non sono presenti, bagnini di salvataggio. Rimane fondamentale quindi rispettare il decalogo del bagnante a ricordarlo è l'associazione Mare Dentro. Quando c'è la bandiera rossa evitiamo di andare in mare. Se abbiamo delle condizioni particolari dove non stiamo bene noi evitiamo andare in mare perché poi oltre a mettere in rischio la nostra incolumità mettiamo a rischio anche l'incolumità di chi deve venire a soccorrerci. Purtroppo bisogna cambiare anche il discorso a livello proprio di cultura del salvataggio e del soccorso. E sono diverse le regole da rispettare tra queste entrare in acqua gradualmente dopo una lunga esposizione al sole, lasciare trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno, evitare lo sforzo fisico e non oltrepassare il limite delle acque sicure segnalato dalle boe bianche. Inoltre non allontanarsi oltre i gavitelli rossi che delimitano la zona di sicurezza per la bagnazione ampia 300 metri e comunque evitare di allontanarsi dalla spiaggia oltre 50 metri usando materassini, ciambelle o canotti gonfiabili. Sì è importantissimo perché comunque poi ogni stabilimento sia degli stabilimenti quelli in concessione che le spiagge comunali hanno comunque un regolamento da rispettare che parte se noi rispettiamo questo regolamento non è che facciamo un dispetto a qualcuno, facciamo un favore a noi stessi e poi ci godiamo di più l'estate. Mare Dentro che è un'organizzazione di volontariato, di protezione civile si occupa di salvataggio, primo soccorso, formazione e promozione degli sport acquatici. Inoltre quest'anno si è attrezzata anche con una moto d'acqua dotata di barella e di ossigeno medicale. L'acqua bike servirà ai volontari per intervenire in collaborazione e in supporto della guardia costiera di Fano. In caso di emergenza in mare è sempre attivo il numero 1530 mentre chi volesse sostenere l'associazione Mare Dentro può consultare l'omonima pagina Facebook. Per chi ci vede da fuori Fano, fuori Marche, venite nelle Marche a fare le vacanze specialmente a Fano perché a Fano abbiamo un'infinità di mezzi per il discorso di salvataggio a partire dalle moto d'acqua, che abbiamo sia guardia costiera che le altre associazioni come Mare Dentro, altri mezzi, quindi siamo in sicurezza. Dobbiamo soltanto cambiare il discorso dell'approccio con le regole da rispettare che, vi ripeto, sono talmente poche che non bisogna fare cose complicate per goderci una vacanza bellissima in questa splendida regione e specialmente a Fano.